Vorrei ripartire da un breve aggiornamento. Qual è lo status oggi della missione Sea-Watch? In questo momento purtroppo la missione è in stallo, sia per quel che riguarda le operazioni navali che quelle di ricognizione aerea. La nave è ancora sotto sequestro probatorio, quindi la Procura non ha ancora disposto il dissequestro, anche se ce lo aspettiamo in tempi piuttosto brevi perché siamo sereni rispetto a come stanno andando le indagini e ad oggi non ci risultano elementi che giustificherebbero un prolungarsi del sequestro. Mentre è recente la notizia che riguarda gli aerei operati da Sea-Watch in partnership con l'ONG, Humanitarian Pilot Initiative e Pilot Volontaire, ci sono degli impedimenti burocratici che arrivano dall'ente centrale dell'aviazione da Roma e ci vengono richiesti dei documenti che non ci sono mai stati richiesti in precedenza e quindi questo ci impedisce di parcheggiare l'aereo a Lampedusa, quindi la richiesta di parcheggio è stata negata sulla base dell'assenza di dei documenti che non sono mai serviti e che a una prima analisi dei nostri avvocati non risultano necessari. Qualche giorno fa si è sbloccata la vicenda Open Arms, immediatamente è partita questa sorta di genere narrativo che è quello complottistico per cui entra in crisi il governo e si sblocca quella situazione. Ora, quanto in queste vicende c'è di definibile in punta di diritto e quanto invece politicamente orientato? Noi siamo partiti con la volontà di fare un'operazione, una missione prettamente umanitaria e nel passare degli anni però la politica si è infiltrata sempre di più nella nostra attività fino a farla diventare, nel caso dell'Italia, il punto centrale della propaganda politica. Questo per noi è un problema, lo è stato, molte volte ci siamo chiesti se avesse senso continuare, quanto la nostra azione venisse strumentalizzata e tuttavia abbiamo deciso di non fermarci perché comunque finché possiamo salvare anche una sola vita in mare siamo lì per quello e quello continuiamo a fare. Ovviamente in questo momento è molto difficile portare avanti l'azione umanitaria nel Mediterraneo, speriamo che la situazione cambi. oggi è stato strano vedere come le ONG siano diventate la sede della persecuzione e della speranza di molti, siano diventate quasi un'opposizione che non riesce a verificarsi come dovrebbe nelle dovute sedi istituzionali, questo noi però lo stiamo subendo piuttosto che attivamente volendo e facendo e quindi insomma continuiamo e continueremo a resistere ad esserci finché possiamo con grande difficoltà, devo ammettere in questo momento. C-Watch, alla pari di tutte le altre ONG, non fa politica partitica o rappresentativa, questo è chiaro, ma fa un'azione che naturalmente oltre che umanitaria è anche politica, politica intesa in senso nobile, quello di fornire un servizio alla società. Ecco, un auspicio per un eventuale prossimo esecutivo, dal vostro punto di vista quale potrebbe essere? Prima di tutto, se di politica dobbiamo parlare, allora il desiderio è che la politica torni a essere l'occuparsi della protezione delle persone e non della protezione di poteri e confini, quindi questo è l'auspicio e se la politica ci riguarda allora lo fa solamente ed esclusivamente in questo modo. Il nostro messaggio è quello di insistere su una responsabilità condivisa a livello europeo per ciò che riguarda la gestione del fenomeno migratorio, che è un fenomeno strutturale dei nostri tempi e che riguarda l'Europa tutta e non è un'emergenza, quindi continueremo con questo messaggio che è quello che ci ha caratterizzato fin dall'inizio, chiedendo una responsabilizzazione dei governi piuttosto che una delegazione di responsabilità a uno Stato in guerra, che è la Libia. Grazie.